Ma ho già detto che l'espressione manovra correttiva mi crea qualche scompenso. Quindi, semplicemente io credo che l'Italia abbia bisogno di politiche espansive, abbia bisogno di far fronte, accelerandola, all'esigenza di una crescita più sostanziale, e purtroppo abbia anche bisogno di fronteggiare alcune, uso il linguaggio europeo, circostanze eccezionali, che più eccezionali di quelle che purtroppo abbiamo attraversato negli ultimi tempi e nelle ultime settimane, sarebbe difficile immaginare. Confido che l'Unione Europea non sarà affatto sorda e cieca di fronte a queste circostanze, ne ho scritto al Presidente Jean-Claude Juncker, farebbe un pessimo servizio innanzitutto a se stessa. Stiamo negoziando, stiamo lavorando, come sapete, lo ha detto anche il Ministro dell'Economia da Bruxelles questa mattina. Come sempre rispetteremo le regole europee, ma lo faremo senza in alcun modo manovre che possano avere effetti depressivi e confermando la continuità dell'azione riformatrice che l'Italia ha portato avanti in questi anni.